Desidero rivolgermi alle popolazioni e alle autorità della Repubblica Democratica del Congo e del Sud Sudan. Carissimi, con grande dispiacere, a causa dei problemi alla gamba, ho dovuto rinviare la mia visita nei vostri paesi, programmata per i primi giorni di luglio. Provo davvero un grande ramarico per aver dovuto rinviare questo viaggio. A cui tengo moltissimo. Vi chiedo scusa per questo. Preghiamo insieme perché con l'aiuto di Dio e delle cure mediche io possa venire tra voi e al più presto. Siamo fiduciosi.